Due cittadini iraniani sono stati condannati all'ergastolo in Kenya per possesso di esplosivi con l'obiettivo di compiere un attentato. Ahmed Mohamed e Syed Mansour erano stati arrestati nel giugno del 2012. Il loro interrogatorio aveva portato la polizia a scoprire 15 kg di RDX, un potente esplosivo militare, nascosto in un campo da golf di Mombasa, seconda città del paese e importante centro turistico sulla costa dell'oceano indiano. È una sentenza sbagliata e illegale, il giudice ha interpretato male la legge, ricorreremo in appello. Per il Tribunale di Nairobi, i due cittadini iraniani arrivati in Kenya una settimana prima di essere arrestati, volevano colpire obiettivi occidentali e gli interessi di Stati Uniti, Israele e Regno Unito nel paese.